A te è un bel padecchè Guarda il papa Guarda questa nel padiglione degli Emirati Guarda che bella Questa è la Cina Guarda questo nel padiglione degli Emirati Questa è stupenda Guarda che roba In mezzo a tutti loro Tutti i principi La bandiera in mezzo Io sono entrato dentro Sono Massimo Allora Cri Ciao Andrea Ti bacio anch'io Dai via libero ad Andrea Ciao Davide Ma quelli Ma gli ex postgettici Che hanno parlato per tutti Ma dove sono andati a finire? Ma dove sono? Dove sono sti idioti? Posso citarti? Come stai? Si 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 Citami citami C'è un idiota Dove sono gli espi idioti? No 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 gli espi idioti no Però siamo un paese così Chiunque ha aperto un ristorante Chiunque ha aperto un ristorante sa Un qualsiasi cosa che all'ultimo minuto Mi ricordo Oscar Farinetti A Italy a New York Che apriva che la sera a mezzanotte Era con la sua famiglia Con la sua famiglia i tre figli e sua moglie A pulire il pavimento E a metterne in ordine la cassa Prima di aprire Italy a New York Tutti sanno che l'ultimo momento è così Dove sono? Dove sono? Dove sono? I... Quelli che non è Non hanno fatto Non hanno finito i lavori Dove sono? Non fanno un cazzone Eh? È vero Cazzo Per fortuna c'è la farmacia là dietro Ti faccio vedere la foto La foto del... Il tweet Il capitano Vabbè Ero sul parco con il capitano 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 No ma aspetta Per me questa è la... E' la foto del Pai Guarda Instagram No vabbè Questo è il Papa Quello? Guarda questa Selfie con Napolitano e Re No grazie No guarda E Matteo ti... C'era Re... C'era Napolitano che guardava E gli diceva Presidente Presidente facciamo un selfie Lui... E lui fa Che... Che cosa vuole fare Allora Renzi si gira Si era lì con lui fa Non si preoccupi presente E' Massimo il dottore Bello eh? Eh... Grande foto Quale si deve Si Dove le postate? Instagram Instagram E il capitano cosa ti diceva? Che è bellissimo Che è bellissimo Cosa diceva il capitano? Cosa diceva il capitano? Andavo via Vuole me la vedere? Vuole vedere te Bello eh? No ma guarda Ti faccio vedere questa che faccio adesso Posto questa cosa Guarda negli Emirati Guarda con gli Emirati Guarda con gli Emirati Non guarda E' Massimo il dottore Vuoi entrare? Guarda Guarda che foto Bella eh? Ma l'hai pubblicata? No non l'ho ancora pubblicata No pubblicala tu dai Eh... Me la devi girare Guarda che bella che è Aspetta